Ciao, ti do il benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Voltem e l'algoritmo Voltem per quanto riguarda l'S&P 500. Anche l'S&P come il Nasdaq è totalmente ballato in laterale, S&P a differenza del Nasdaq però è bello da un punto di vista ciclico perché ha una tendenza definita, quindi non è un pacciugo che non si capisce nulla. Il problema è soltanto che il ciclo da 40 giorni è vicino a un picco e il ciclo invece da 20 giorni ci dà ancora un po' di spazio. Quindi andare a cercare un long bisogna farlo con molta cautela, adesso andremo a vedere i livelli su TradingView. Sono Polo Pisino, sono un trader dal 2007, ti invito a registrarti sul mio canale YouTube, a rimanere sempre aggiornato cliccando sulla campanella e a visitare anche il mio sito www.tradinpertutti.com ti invito anche a unirti al canale Telegram gratuito, siamo 1500, non è un canale enorme però piano piano cresce anche lui e ti invito anche a visitare ciò che metto a disposizione come servizi, segnali intraday, adesso andremo a vedere un pessimo mese di settembre, indicatore Voltem per poter lavorare con i miei strumenti, avere anche un canale Telegram di supporto e i video educativi, e il corso di analisi ciclica e volumetrica se vuoi approfondire ancora di più tutto il mio mondo con un anno intero di licenza dell'indicatore, 2 ore di coaching con me e 12 mesi di segnali intraday, parliamo di 58 ore di formazione. Ecco qua il bellissimo mese di settembre, poi stasera o domani aggiornerò anche la slide che è presente sul sito. Ieri, che ho chiuso oggi in realtà, tre operazioni sul Nasdaq che poi quest'oggi sarebbero andati in profitto, stop loss presi per pochi punti, ok? 37 punti meno, 190 meno, 90 meno, per un totale ad oggi di Nasdaq di meno 374 punti. Ovvio che l'obiettivo del mese è cercare di limare un po' la perdita, un mese disastroso perché guardate un po' qua, 32, scusatemi, 12 punti e-trade portati a mercato, ok? Con la bellezza di 3, 4, 5, 6, 7 operazioni in perdita, quindi circa il 60%, giusto se non faccio male il conto. Guardate agosto, 19 operazioni, 3 stop loss. Mercati folli, completamente folli, su H1 veramente molto difficile in questo momento perché qualsiasi brecata il mercato se la rimangia perché è completamente imballato in laterale. Questo porto ovviamente a dovere purtroppo, lo dico io, lo dico purtroppo incassare, infatti ho comunicato già questa sera che finché il mercato è così cambio time frame, sono obbligato ad entrare su 5 minuti, quindi avrò stop loss molto stretti e mi darò 4, 5 cartucce, probabilmente giornalieri, ok? Come si dice, per quale motivo? Perché un mercato così randomico io entro sempre correttamente, nel senso che non è che entro a caso, ok? Entro correttamente, a questo punto qua se mi va a stoppare rientrerò poi su un livello successivo, su pattern chiaramente in modo tale da avere dei piccoli stop nel momento in cui il mercato va, se il mercato va subito, ok? Gli approfitto, ma se il mercato mi deve stoppare due o tre volte, però ho comunque la possibilità di entrare più volte anziché lavorare adesso su H1 con stop loss che è obbligatorio, dico obbligatorio, che siano di 100 punti perché uno stop loss di 50 punti su H1, guardavo prima, lo si deve mettere su 5 minuti, diventa abbastanza difficile da lavorare. E quindi tornando a noi, anche per quanto riguarda S&P, niente, ormai S&P è completamente imballato, è da 3 giorni che fermo in 300 punti, in realtà è da 4 giorni che è fermo in 300 punti, questo rende chiaramente il mercato non lavorabile, anche in multiday. Ok, andiamo a prendere l'S&P Rieccomi, sto cavolo di trading view, allora, è daily, ok, ah scusatemi, questo senza voler l'avevo messo sull'intraday e vabbè, se ti cancello però ci sarà un motivo, no? Dicevo, tracciando questo profile, quindi avendo un'idea chiara di volume, lo vediamo bene, cioè non abbiamo modo di lavorare, è vero che volessimo, potremmo anche, eventualmente in multiday, attendere una chiusura, chiusura sopra a questo canale ribassista, ok, e entrare poi sulla rottura, ma quanti punti avremo a disposizione? Cioè stiamo parlando veramente di niente, il primo segnale semidecente lo avremmo più o meno qua, dove potremmo avere un po' più di movimento a disposizione, ma qua veramente allo stato attuale non c'è un granché da fare, quindi nonostante la tendenza di fondo sia rialzista, abbiamo troppi livelli che ci impediscono di lavorare, quantomeno con il mio metodo che richiede di avere un po' di spazio di movimento e non avere subito una resistenza, quindi così come sul Nasdaq, S&P io direi, tra di fondo e rialzista, ma troppo laterale per poter entrare al mercato, quindi rimaniamo alla finestra. Con questo è tutto, ti do appuntamento alla prossima analisi. Ciao ciao! Ciao!